Un pioniere del cammino ecumenico e del dialogo tra religioni, oltre che per essere promotore riconosciuto di pace e giustizia. Con queste motivazioni all'oppiano nella cittadella del Movimento dei Focolari, l'Istituto Universitario Sofia ha assegnato a Bartolomeo I, Patriarche Ecumenico di Costantinopoli, il primo dottorato onoris causa in Cultura dell'Unità. Mi pare un evento particolarmente significativo, non solo per l'Istituto Universitario Sofia, ma anche per la realtà ecclesiale in genere. Penso di sì, nel senso che per Sofia certamente è un momento importante, direi storico, perché è il primo dottorato onoris causa che diamo dopo nove anni di vita e la scelta è stata ponderata, noi diamo un titolo in Cultura dell'Unità, sia a livello di laurea magistrale che di dottorato, che poi si declina in filosofia, teologia, studi politici, economia, ma la chiave è la cultura dell'Unità. Allora abbiamo voluto onorare una persona che effettivamente è un pioniere, è un segno profetico della cultura dell'Unità nel nostro mondo, sia nel rapporto tra le chiese, basta vedere il rapporto che il Patriarca ha con Papa Francesco, sia nel rapporto con le religioni, il Patriarca vive in terra turca, quindi una minoranza cristiana in una zona che è maggioranza musulmana, e poi anche il Patriarca ha lanciato nel mondo cristiano questa sensibilità per il mondo creato, che Papa Francesco ha rilanciato con Laudato Si, dove non a caso cita ampiamente cose scritte molto belle dal Patriarca in questo senso. Il carisma dell'Unità genera un istituto universitario come Sofia, ecco, in che cosi si caratterizza questo carisma? Si caratterizza, l'ha detto lei stessa, il carisma dell'Unità, quindi la sua caratteristica è proprio quella di fare di tutto perché si realizzi il testamento di Gesù, che tutti siano uno, e fare di tutto in tutti i campi, anche nel campo culturale, quindi a un certo punto attraverso l'Accademia, attraverso questo istituto universitario, si vuole proprio inculcare una cultura dell'unità che tenga conto delle diversità, delle discipline, ma che le componga a beneficio dell'uomo.